Ciao a tutti ragazzi, io sono Balazzo Salvatore Oggi siamo un po' allegri Niente allegri Allora, sto studiando Ve lo faccio vedere un bel libro D'inglese Bene, questa no, per fortuna Abbiamo il peggiore Matematica Ecco qua Matematica, leggete? Ok Allora, voglio fare Questo video speciale Perché Stavo un po' sul cavolo No vabbè Volevo fare questo video per scusarvi Sempre perché Non stanno uscendo video Bianchetto A causa di tutto questo Vabbè, scusate Se sto guardando in giù Perché sto facendo un attimo i compiti E la sera non uscirà Perché mi serve una telecamera Se non posso comprare la telecamera Non può uscire Stasera E allora niente Cioè Sarebbe come Se qualcuno disse Ciao Allora Mi serve almeno qualcuno Che mi tenga accesa la telecamera E faccia ogni volta un video Non so perché sto facendo così Con la pena Al giorno Ciao Allora Questo video Durerà qualche minu Banane Ovviamente Iscrivetevi se vi è piaciuto questo video Non ci vediamo alla prossima volta E ciao ragazzi Allora Fucking genio Ma hai voglia Allora Completiamo i compiti Allora Secondo voi Tra 50 e 50 Operazione Aspetta Vi faccio un'operazione Scusate Il video è un po' Verrà ma Allora Addizione Prendete qual è l'errore matematica Addizione 130 Più 6 No Scusate 9600 Vai vai Muovetevi In frattempo Faccio un po' Che compiti Fatto? Va bene Allora Ci vediamo al prossimo video Spero che vi sia piaciuto E fatemi sapere Nei commenti Iscrivetevi Attivare la campanellina Nei commenti Qui giù Qui No Sul compito Se no C'è dei monali Scrivetevi Che ha trovato Diamonds Su Minecraft Che sarebbe Diamanti In inglese E Fatemi sapere pure Come è andata L'addizione Ciao Ciao